Il dolore è sempre una brutta sorpresa. Se distorsioni e mal di schiena ti bloccano, puoi provare Fastum Anti-Dolorifico Gel. Si assorbe in fretta e dona sollievo dal dolore in modo rapido e duraturo. Fastum Anti-Dolorifico Gel, per non fermarti. E quando il mal di schiena è forte, puoi provare Fastum Dol Anti-Infiammatorio, anche a stomaco vuoto in caso di dolore acuto.